Ci troviamo in centro a Milano, è la giornata mondiale del donatore, il 14 giugno del 2018. Alle mie spalle l'unità mobile di Avis. Ringraziamo per avere condotto qui questo mezzo che servirà oggi a raccogliere più sacche di sangue possibili dei professionisti che sono accorsi in città per l'inaugurazione della loro nuova sede. Noi come Miami Ristoro da anni affrontiamo e cerchiamo di dare un contributo per la soluzione di questo problema accogliendo l'unità mobile che vedete alle mie spalle presso la nostra azienda e coinvolgendo gli imprenditori vicini e cerchiamo di veicolare l'invio e aiutare l'invio dell'unità mobile presso le aziende amiche. In questo caso Comprofessioni è un'associazione di professionisti molto vicina a noi che ringraziamo in quanto ho accolto questa iniziativa e siamo qui oggi per cercare di recuperare e far donare più persone possibile in modo da avere più sacchi di sangue possibile. Volevo ringraziare e usare come modello il rapporto che abbiamo instaurato con Miami Ristoro. Una forza incredibile nel divulgare il messaggio della donazione di sangue da un lato e dall'altro sicuramente una disponibilità a essa stessa ad accoglierci per la donazione di sangue nella loro azienda. Con Miami Ristoro, con il consorzio loro, abbiamo già realizzato alcuni progetti importanti per la tutela della salute del nostro donatore attraverso due strumenti, bilanci impedenzometriche e calorimetro che permettono di mantenere in salute il nostro donatore. E questo è fondamentale perché riusciamo a riprendere la donazione con la periodicità dovuta e a ottenere molte più unità per poter curare il malato.